Mi hanno chiesto una collaborazione che io ho fatto molto volentieri. Abbiamo iniziato con una campagna che si chiamava Mettiamocelo in testa. Il simbolo della campagna era appunto mettersi in testa un libro, ma per aiutare i bambini rifugiati a ritrovare la scuola, a ricominciare a studiare e anche perché la scuola è un posto sicuro per i bambini. Per cui il diritto allo studio è fondamentale e il diritto ad essere sicuro è fondamentale. Abbiamo iniziato questa cosa, in tournée in teatro mi sono portata a UNHCR con i miei braccialetti, con i miei libri in testa, sono andata nelle università e ho visto che nei giovani c'è molto più apertura, ovviamente come è normale. Bisogna parlare, bisogna parlare un linguaggio che capiscano e questo che abbiamo utilizzato è un linguaggio perfettamente comprensibile. Perché alla fine è il linguaggio dell'arte, che tutti dicono che con l'arte non si mangia, tutte queste grandissime balle. Ma con l'arte poi si mangia. Ma poi è il linguaggio che tutto il mondo parla. No, noi qua non è che è proprio... Guarda qua. Guarda la panza dei fanno fino. Bello per sole. La devina mia. Cioè alla fine la musica, il teatro, sono lingue che tutti parlano. Che tutti parlano, se vogliamo parlare il linguaggio delle persone, perché poi se vogliamo tenere una distanza anche lì non si comunica. Sono modi per far capire, pare brutto parlare di messaggi, però forse anche no, forse possiamo anche ricominciare a parlare di messaggi. Sì, perché no, ancora ci portiamo appresso tanti anni di... No, il dibattito no. No, non solo, ma anche... Io sono molto contenta che esistano delle scuole come quelle di Tiziana, perché ho sentito per troppo tempo... Cioè io voglio solo essere me stessa. È poco, non è abbastanza. Per andare su un palco scenico e trattenere qualche migliaio di persone, se sei solo te stessa, non è sufficiente. No, forse no. Ecco, forse no. Magari studi in paese. Ma magari una volta ce ne frega, per i famosi 15 minuti, poi dopo però... Superate in di vuoto. Dateci un'altra lei stessa. Allora, il centro di prima accoglienza è Lampedusa. Il rifugiato arriva e approda nel paese. Di seconda accoglienza è già un principio di integrazione. Io ho vissuto, ho visto questa realtà e c'era anche tanta gente del posto, comunque persone che sono venute a vedere, perché l'invito era proprio quello. Venite a vedere che cosa succede veramente in questi centri. E si dà lavoro a delle persone. Le persone recuperano dignità attraverso il lavoro. In questo caso erano, a parte un uomo, erano quasi tutte donne. Qualcuna ha imparato lì a lavorare, qualcuna aveva delle conoscenze, e chi sapeva un po' cucire, chi sapeva un po' lavorare all'ucinente. Vuoi vedere le foto intanto? Mandiamo sulla fotocamera della tua visita. A quale sei andata? A Latina. A Latina. L'atelier Acantus. È una sartoria. La prima cosa che hanno voluto farmi vedere è il registo di prima nota. Per farmi vedere che effettivamente queste donne vengono pagate e hanno di che vivere attraverso questo lavoro. E attraverso la vendita, dissi qui, ecco, mi esibisco in un meraviglioso uccinito, un punto basso. Ma tu sei sempre campionessa di tricotare. Ah, io facevo i maglioni per Nensio. Magliora. Era la mia modella preferita. Mi ricordo che io ne ho fatto uno di rete, bianco, con il cappellino uguale. Noi siamo molto amiche da... E fate bene. I cappellini, come potete vedere i miei capelli hanno molto bisogno di cappellini. E queste signore imparano. E di dietro ci sono dei lavori che uno immagina, vabbè, poverine chissà che fanno, insomma faranno delle cose rimediate, fanno delle cose veramente molto belle. Molto belle, con ottimi materiali. Erano... Oh, questa foto, qualcuna ride, qualcuna no. Ma erano contentissime, erano anche molto emozionate. Senti, ma mi interessa, sono tutte persone, anche tra di loro, di culture diverse? Infatti, sì, sì. Voi parliamo di integrazione. Siamo di integrare già tra di loro. Ma infatti quando si va in questi centri, quando hai in una stanza anche solo 7-10 persone, così che raccontano ognuno la propria storia, che ha solo come tratto comune quello di essere tragica, difficile, aver superato delle difficoltà estreme. Però fra di loro sono di culture molto diverse, talvolta di religioni diverse, hanno idee politiche diverse. Anche per loro è un grande impegno stare insieme, no? Per tanto tempo, per tanti mesi. Diventano amiche, obiettivamente. Allora, andiamo sul palco di nuovo, perché abbiamo raccontato un sacco di storie e ne abbiamo una da raccontare adesso. Scronk. Eh, lo vedremo. No, un'altra sigla incomprensibile.